Ciao sono Davide Malizia, campione del mondo di zucchero artistico e pasticceria. Oggi vi porterò con me nel magico mondo di Pontier e della sua frutta tra colori, gusti e texture. Andiamo a realizzare il Macaron alle castagne, questa volta un classico intramontabile ma con un prodotto di Pontier molto interessante, la purea di castagne. Adesso andiamo a vedere la realizzazione. I nostri macaroni sono dressati, andiamo a fare riposare in modo tale che si forma bene la pellicina a temperatura ambiente e dopo di che andremo a infornare, pronti per assemblare. Andiamo a realizzare la ganascia ai marroni. Prima cosa cominciamo a scaldare bene la prima parte di purea ai marroni di Pontier. partiamo poi! pronti per assemblare i nostri gusci andiamo a mettere per prima la ganache